Ciao a tutti streghe e stregoni, bentornati in Accademia. Oggi voglio un po' condividervi quello che ho fatto di artistico durante l'estate. Per esempio una cosa la trovate già in questa inquadratura ed è quella lì. Un giorno sono andata al parco con le mie bambine e con Libra, se ve la ricordate. Abbiamo visto dei rami che erano stati tagliati e quindi ne abbiamo approfittato. Io adoro il legno, non so voi, ma per me il legno è il materiale più bello tra tutti. Loro si sono messe a creare delle bacchette, io ho raccolto questo bastone. Mi sarebbe piaciuto mostrarvi com'era all'inizio, ma ho soltanto questa foto, ve la metto qui da qualche parte. Io avevo già iniziato a levigare il legno, per cui non si capisce veramente com'è che era prima che io ci mettessi mano. Però comunque ora bando alle ciance, vi faccio vedere com'è. Ricordo, è una cosa del tutto decorativa. Tra l'altro aveva il legno, non so se si vede purtroppo, spero di sì, mi devo mettere così. Questa parte era un legno che era un pezzo di ramo che sporgeva. Io l'ho dovuto tagliare e levigare. Sembra... non so se lo vedete ragazzi, ma... sembra una linguetta! Vabbè, pazienza, pazienza. Non riesco a metterlo a fuoco. Forse perché fa schifo in realtà. Vabbè, ragazzi, più di così non riesco. Poi se volete vi faccio delle foto, ok? Così si riesce a vedere un po' meglio, forse. E... vabbè, questa è la parte di sotto. Ed è così, insomma. Alla fine della fiera. Che ne pensate? E poi niente, è lunghissimo, è tutto... tutto kitsch. Così tanto perché mi ispirava e ogni tanto faccio cose che non servono a nulla, in realtà. Come, per esempio, le dita della strega. Ora non ce l'ho neanche più. Ah sì, è lì. Queste, che forse avrete visto da qualche parte sul canale, nella sezione community, per esempio, o anche sul negozio, sul sito ufficiale dell'Accademia. E non serve assolutamente a niente. Questa. I medaglioni sì, li avevo caricati. Queste dita di strega... ah sì, mi ricordo, qua sotto li avevo... questo è sangue di drago. Ce la posso fare, sì? Ragazzi, non si vede meglio di così. Meglio di così non si vede. Ecco. L'ho fatto simile a legno o simile a mummificato. Dito mummificato. Di strega. Vabbè. Però sono decorative. Adesso sembra veramente scurissimo, anche perché non è che c'è una gran luce qui. Se volete altre immagini di questa, comunque ve l'avevo fatta vedere. E questi sono in vendita, insieme ai medaglioni. Quindi mi sono data all'intaglio quest'estate, decisamente. Dalle narici, praticamente, ci si possono infilare degli incensi. E quindi fuma. Vabbè, ma io sono matta. Cosa volete che vi dica? Avete conosciuto una matta qui su YouTube che piace fare queste cose. E quindi... E a voi? Piace intagliare? Io penso che la prossima volta farò una bambola in stile medievale della crona. Bene, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piace. Per ora è tutto, perché in realtà non ho fatto solo intagli e cose così, ma in realtà mi sono data sotto con le lezioni. Quindi ne vedremo delle belle quest'anno. Questo sicuro. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. A presto. Ciao.